Giulia che bel percorso oggi! Sì, oggi è stato il vero ciclocross, tratti a piedi, contropendenze e tratti dove bisognava veramente spingere. Come l'hai affrontato? L'ho affrontato maggior parte delle contropendenze, tutte a piedi, perché si scivolava e poi il pezzo dentro il bosco si faceva bene in bici e il pezzo di sotto anche quello in bici. Che bella soddisfazione la maglia di campionessa regionale! Sì, è una bella soddisfazione rivincerla diciamo in casa e spero di farla valere. Una dedica per questa bella vittoria? Sicuramente la dedico a tutta la mia famiglia che mi sostiene e a tutto il mio team.